Accompagnare un fratello sacerdote all'ultima dimora, pensarlo nella gloria del cielo, dopo che avrebbe potuto spendere ancora tanti anni della sua vita a servizio della Chiesa e a servizio del Regno di Dio, certamente ci riesce difficile. Fatica per due comunità parrocchiali che avevano come parroco Don José Alirio e che in poco tempo era riuscito a conquistarsi la simpatia, la benevolenza, l'amore di tutti i parrocchiali. Padre José era diventato parte integrante e fondamentale del nostro paese, era venuto da lontano, aveva lasciato la sua amata terra, il Venezuela. Per diventare un servo del Signore, essi era ritrovato a servire la nostra piccola domenica. In poco tempo era riuscito a farsi amare da tutti, dai bambini, dai giovani, dagli anziani. Oggi Picciano subisce una grande perdita, un grande sacerdote, un grande uomo, ma anche un grande amico.